Ciao a tutti ragazzi sono Drexen e bentornati su Windup Knight Ragazzi ottime notizie, bellissime notizie appena finiamo il sesto capitolo, livello volevo dire Ci manca un'altra pagina del libro e finiamo il terzo capitolo e dopo ci manca l'ultimo, il quarto E così possiamo continuare con il secondo capitolo, quello vero, di Windup Knight 2 Mamma mia, ce l'avevamo fermati qui con questo livello impossibile a quanto pare Perché non riusciamo a batterlo stranamente, cioè non ci riusciamo proprio, cioè è impossibile praticamente Vediamo E se riusciamo ora Magari si Oh perfetto La parte un po' più difficile è passata, per fortuna Ah sto per accovacciarmi, accidenti Dai Dai che facile, ormai ci ho preso la mano Oh Dai Eh, che posto è questo? Qui Dai Non ci credo ragazzi, non ci credo Non ci credo proprio Accidenti E vabbè E vabbè Sono capitati i livelli dove Non sono morto neanche una volta ragazzi Per fortuna E purtroppo questo episodio non è uno di quelli Dai Dai, dai, dai Accovacciati Premi il tasto per sparare il mondo Bravissimo Ora fai così Dopo riscendi Dopo Accovacciati fai così E dopo Buttati che è morbido Benissimo Benissimo ragazzi Cinque minuti per finire questo di Mamma mia Ora Dobbiamo fare il settimo Eh sì Dai Dai questo mancare Boom Però proviamo a salire No, scendiamo dai È meglio Hop Hop Dai Beh va bene Come si fa? Ancora non l'ho capito però Certo Giustissimo Io l'avrei fatto pure Ecco qua In mezzo al gallo proprio In mezzo al gallo E spostati Dai Dai Ce la facciamo in questa volta invece Forse sì Sembravo intenzionati Sembravo molto intenzionati A finirlo Molto 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 Ce l'abbiamo Fatto Benissimo Vediamo il grado Il grado S Sì Proprio Ragazzi Io direi Che il video finisce qui Commentate Condividete Iscrivetevi al canale E noi ci rivediamo Nel prossimo video Mettete mi piace Mi raccomando Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti